Innanzitutto perché volevamo presentare una formula di franchising che non è franchising. Il franchising ci fa da circa 30 anni e abbiamo visto nella nostra azienda che negli ultimi tre anni il franchising non è più possibile attuare perché è cambiato il mercato, sono cambiate le formule, abbiamo bisogno di investire più nell'abbigliamento in questo caso perché per noi il franchising è abbigliamento barra fornitura d'arredo e non possiamo permetterci di far spendere al nostro cliente molto per l'arredo e altrettanto per investire nel prodotto. E non essere franchising, lo abbiamo chiamato easy franchising. Il nostro affiliato ideale è chi ha voglia di scommettere in questa nuova forma di franchising dove ci deve mettere molta passione e poco investimento in denaro. Grazie a tutti!